Buonasera, benvenuti in un nuovo appuntamento con il veterinario. Questa sera parliamo della civetta. È un volatile notturno, anche se abbastanza vigile e attivo anche durante la sera o al mattino. È proprio un rapace abbastanza frequente in tutta Italia, fino al limite di circa millimetri sul livello del mare. Oltre la civetta non si spinge perché l'eccessiva quantità di neve le preclude proprio la possibilità di trovare da mangiare. Come distinguiamo la civetta dal gufo? Il gufo ha dei piccoli peli a livello delle orecchie, quindi proprio dei ciuffi auricolari, chiamati così, che non ha la civetta. Un po' di dimensioni, la civetta è lunga circa 21-23 cm, la sua apertura alare è circa 59-60 cm e il peso varia da 100 g a poco più di 200 g. Quindi sicuramente un volatile abbastanza leggero e piccolo. Sicuramente è diffuso in tutto l'emisfero nord del pianeta, quindi Europa, Asia, Africa del nord e come ho detto in Italia i suoi habitat sono proprio gli abitati civili, quindi si avvicina bene alle case dove c'è presenza umana e soprattutto nella zona collinare. La civetta è carnivora, quindi si ciba di piccoli insetti, ma anche di altri resti che trova nel bosco, anche di piccoli topi e di piccoli altri mammiferi che può predare e cacciare all'interno dei boschi. Una cosa curiosa è che la civetta è in grado di inghiottire piccoli topolini completamente interi senza doverli uccidere prima o proprio la predazione consiste proprio nel fatto di mangiare il topolino intero e rigurgitare poi delle piccole parti non digeribili come le ossa e la pelle che potete trovare tranquillamente nel bosco come si chiamano proprio borre, dei residui che i rapaci rigurgitano e voi trovate questi strani reperti nel bosco che non sono altro proprio sintomo della presenza dei rapaci notturni all'interno del bosco. Per questa sera è tutto, vi do appuntamento la settimana prossima, arrivederci!